una breve lettura di alcuni passaggi del libro intanto voglio ringraziare tutti quelli che lo stanno acquistando fra l'altro sta salendo le classifiche non sapevo che esistessero di amazon ed è primo in alcune categorie e secondo in altre categorie quindi sta andando molto bene mi fa piacere ma voglio anche invitarvi a lasciare le recensioni sia sul sito dell'edizione simone sia su amazon qualunque se siano positive o negative a seconda della vostra scelta allora voglio leggere qualche passaggio in modo tale da far capire a chi ancora sta valutando se acquistarlo o meno di che cosa si tratta intanto parto dall'introduzione l'introduzione dove cerco di spiegare appunto le caratteristiche di questo libro particolare cartaceo volutamente cartaceo il titolo dell'introduzione è un libro ma non solo per imparare a studiare chiamerò libro questo materiale che stai leggendo in realtà come potrai vedere non è un libro tradizionale non è un libro solo cartaceo anche se lo stai leggendo e io lo sto leggendo in questo momento su carta non è neanche un ebook perché l'espansione online ha una finalità diversa non è l'equivalente del libro è un qualcosa in più ci sono collegati gruppi telegram ci sono legati video con il qr code in cui si possono fare approfondimenti è uno strumento lo definisco dinamico perché i libri tradizionali non si aggiornano con i quali iniziare un'interazione fra il sottoscritto chi vuole provare questo percorso questa scalata di preparazione ai concorsi in un altro paragrafo cerco di spiegare appunto il tema fondamentale che sta alla base di questo libro e che io spesso ripeto nei miei video i concorsi non sono esami questo è l'errore fondamentale di moltissimi studenti che studiano come alla maturità come un esame universitario come alla patente di guida come a qualsiasi altra esame l'esame non è una competizione i concorsi sono competizioni in un concorso non conta il mio voto in assoluto conta il mio voto relativo si può vincere con un 24 si può perdere con un 28 ecco perché non ci si deve accontentare delle materie di esame e in questo capitolo appunto spiego come approcciarsi ad esempio allo studio delle materie di esame e sempre in questo capitolo sui concorsi non sono esami sono competizioni c'è un altro tema proprio perché sono competizioni generano stress che un esame genera in modo diverso stress che determina l'attivazione del cosiddetto effetto dunning kruger è un effetto per il quale quando si inizia a studiare un concorso un esame o qualsiasi altra materia sia un primo momento di sensazione di conoscenza completa entusiasmo perché si apprendono cose nuove sembra di essere entrati in un mondo a noi estraneo che si padroneggia ma più si studia e più si accorge che ci si accorge che c'è da studiare questo effetto porta alla cosiddetta valle della disperazione che il punto più basso il punto nel quale si pensa di mollare si pensa che non fa per me si pensa che io non riuscirò mai a vincere un concorso ecco è lì che occorre puntare per vincere vari capitoli paragrafi dove si analizza anche l'orario per esempio in paragrafo a pagina 35 quante ore devo studiare al giorno meglio studiare la mattina la sera la notte anche questo non è da sottovalutare come detto il libro è un libro di metodo non di contenuto ed è importante perché sbagliare approccio sbagliare approccio nella quantità nella qualità nelle pause il nostro cervello non è abituato a concentrarsi per più di un tot tempo ormai studi dimostrano che dopo 25 minuti si dovrebbe fare una piccola pausa e dopo 45 minuti massimo un'ora una pausa più significativa questo per rigenerare l'energia che questo viene accennato approfondito indicato suggerimenti come del tipo meglio studiare da soli o con qualcuno anche qui bisogna stare attenti perché lo studio è prevalentemente individuale lo studio di qualunque cosa è individuale perché dipende dai nostri ritmi non tutti siamo concentrati allo stesso modo non tutti siamo liberi allo stesso modo spesso che si prepara un concorso lavora o fa altro quindi questo è un aspetto importante vi ricordo ne approfitto per ricordarlo a tutti quanti chi avesse già ricevuto il libro e l'ha letto metta la recensione su amazon o sul sito delle edizioni simone semplice due clic e scrivete che cosa ne pensate molto importante il feedback per capire anche se andare avanti con altre iniziative altri aspetti troverete nel manuale alcune cose che sono frutto della mia invenzione o delle invenzioni di mio figlio il tecnicale c'è un paragrafo intero dedicato a questo strumento di approccio ai quiz mentre per lo studio diverso dai quiz io illustro un metodo che ho chiamato criv in realtà è una il carattere dell'apprendimento non è proprio un metodo cioè quando si studia si deve studiare con un approccio circolare ricorsivo queste sono la clr dell'acronimo criv ma anche intensivo verticale cos'è circolare ricorsivo significa che una materia non la si studia una volta neanche due tre quattro ma la prima volta si studia ad un livello elementare ricordando probabilmente quasi niente e non si deve essere preoccupati se dopo una settimana di studio non ricordo quasi niente alla prima lettura è fisiologico è naturale il cervello sa ma io non sono in grado di esporre ovviamente occorrerà una seconda volta dove io rispolvero nozioni che avevo compreso e vado ad approfondirle e forse una terza volta ma non basta perché in alcuni casi occorre anche un percorso intensivo verticale di approfondimento si deve andare a leggere il comma l'articolo la sentenza la giurisprudenza questo soprattutto in un momento avanzato della preparazione quindi in questo capitolo vengono spiegate le tre tappe con le quali cercare di approcciarsi ai manuali ai testi per lo studio insieme a questo metodo illustro il metodo cima il metodo cima anche questo di mia impressione diciamo niente che non sia stato inventato da altri precedentemente ma ho tentato di illustrarlo con questo acronimo cima sta per comprendere imparare memorizzare aggiornarsi cosa significa significa che la prima volta quando guardo un video leggo un libro qualunque cosa io devo cercare di capire cosa si dice mentre se faccio l'errore di cercare di imparare soprattutto di imparare a memoria non ricorderò niente e non avrò capito niente quindi la prima volta cerco di comprendere anche banalizzando il discorso se penso al procedimento amministrativo la prima volta che lo studio è arabo se io me lo immagino come il procedimento per preparare la pasta asciutta allora vedrò che ci sono molte analogie e quindi lo banalizzo lo semplifico ma a me serve comprendere il concetto di sequenza di atti diretta l'emanazione di un provvedimento finale qual è la definizione del procedimento amministrativo non mi serve memorizzare la definizione mi arriverà dopo la memorizzazione una volta che ho compreso di cosa si tratta devo poi imparare soprattutto imparare il linguaggio linguaggio tecnico giuridico perché ovviamente il diritto ha anche un suo linguaggio e questo va imparato con una certa terminologia che non significa imparare a memoria perché la terza fase è la memorizzazione ma non di tutto perché è impossibile memorizzare tutto ma almeno dei concetti fondamentali della definizione di silenzio assenso della finizione di responsabile del procedimento delle mansioni superiori dell'articolo sulla scia è ovvio che se impara memoria certi concetti certi articoli certi riferimenti mi torna più facile andarli a cercare o citarli nei testi quindi comprendere primo aspetto è quello che richiede più sforzo dal punto di vista cognitivo soprattutto per chi viene da esperienze non giuridiche di studi non giuridici ma anche quello più esaltante perché si capiscono cose anche della vita reale il diritto amministrativo è molto incentrato sulla vita reale poi imparare quindi imparare il linguaggio imparare dove si trovano le norme l'importanza delle norme terzo passaggio memorizzare quindi cercare di memorizzare almeno i concetti fondamentali e non dimenticare l'ultimo passaggio che può fare la differenza in ogni concorso che è l'aggiornamento quindi aggiornarsi perché il diritto amministrativo cambia non fate in tempo a comprare un libro vedere un corso o anche leggere una sentenza che la settimana dopo potrebbe esserci una diversa anche qui facendo una selezione scegliendo guardando le riviste più importanti altro concetto su cui ho speso diverse parole e ho dedicato un paragrafo sono i concetti di jolly e super jolly i jolly sono quelli delle carte mi è venuta in mente questa idea perché perché forse non tutti sanno che proprio perché le competizioni come concorsi richiedono una comparazione rispetto a ciò che fanno gli altri io riuscirò a emergere se dirò un qualcosa che gli altri non dicono per cui lo studio manualistico che si fa a scuola dove vado a ripetere ciò che il professore vuole sentirsi dire perché è scritto nel libro o all'università che spesso è fondata sul principio per cui parlo delle cose che il professore vuole sentirsi dire o che ha detto a lezione qui non è così uno perché non conosco chi sarà il mio professore non conosco che domande vado ad estrarre e allora riuscire ad introdurre i concetti che la commissione non si aspetta di sentirsi dire e chiamo jolly questi concetti oppure che addirittura non conosce perché il disegno di legge ha approvato il giorno prima e la commissione non lo ha letto vi assicuro che fanno un'ottima un'ottima impressione sulla commissione ovviamente questa era una primissima chiacchierata avremo occasione di tornare a parlare per chi vorrà so che molti di voi l'hanno già ricevuto molti l'hanno prenotato e quindi è in arrivo questa è la copertina lo trovate su amazon e sul sito delle edizioni simone mi raccomando ripeto scrivete appena l'avete finito la recensione ricordatevi che c'è un qr code quindi un link diciamolo così per andare al gruppo telegram dedicato dove già molti si stanno iscrivendo e stiamo già interagendo per continuare alcuni discorsi iniziati sul libro libro di quasi 300 pagine ma comunque sintetico molto sintetico per cui c'è necessità di ampliare come detto la volontà è quella di arrivare vicini non rimanere lontani attraverso un testo quindi vi aspetto nel gruppo telegram vi aspetto poi con tutte le altre iniziative ringrazio l'edizione simone per avermi dato l'occasione di questo momento ringrazio tutti quelli che hanno già prenotato ed acquistato e hanno fatto sì lo trovate andando a vedere sul sito amazon le diciamo la graduatoria dei libri più venduti in italia siamo ad un ottimo un ottimo livello e quindi grazie a tutti quanti arrivederci